Ciao a tutti, benvenuti a questo gameplay. Era rimasto che avevo cacciato di nuovo il Kachawaka e dovevo catturarlo. Dopo di che volevo andare in esplorazione ma non l'avevo potuto perché non avevo più memoria nel telefono. Quindi proseguo. Allora, intanto mi controllo l'indentario che è anche pieno. Ok. Ciao a tutti. Bene. In più, ragazzi. No, scusate un attimo. Adesso mi sono perso un messaggio qua. Di qualcuno? No. In più, ragazzi, appunto, che stavo dicendo, avevo sbloccato una missione urgente proprio qui. Un certo Nershilla. Che io credo che sia il... Un serpente che avevo visto in una foto. Poi non so se sia lui. Sto mi vedere... Sto mi rivede... Si è lei. Vedo, qua raffinendi, sono nascosti uguali. E qua... In una altre? Si. Oggi io ancora. Iferisci la cresta. Ca' cacciato di pacce rosse. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. devo parlare affrontare allora che due scatole però mi farebbe comodo allora con la calo di questa si può ferire il problema è come quante ne ho? buono a proposito ho un diritto perché signorino e signorino a velena non si sa mai male che questo mangio perché sennò mi dimentico sempre non posso fresco zucca e cacio muschiato proviamo va bene ragazzi una cosa importantissima mi sono dedicato devo prendere le corte assolutamente importantissime dove è? steppa ancestrale e il livello è anche migliore battiamo di nuovo questo uccellaccio molto sclerato anche ok questo è un po' su cui metterli boh vediamo qualche a fare gare questo maledetto non è qui ok allora proseguiamo non è nemmeno qui uccellaccio prova dove cavolo è? allora provo di parezza che rumore è strano ma probabilmente non è qua 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 c'è ragazzi scompasso non è qua non è qua un bel volo anzi un bel volo 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 Prendiamo andare a riparare, ragazzi. C'è cinque minuti per trovarlo, tra poco. Oddio. C'è ragazzi, l'ecqua non può essere, anche se c'è una zona, però, non proviamole tutte, ragazzi, è assoluto per la vita. C'è, non so più dove sta, infatti non è qua. Una roba da pazzi. Questa volta cambia il giro, giù, è una cosa che mi dà fastidio e proprio non si fanno trovare. Porca di quella miseria, eh? Ti fai trovare un uccellaccio del cavolo. Ti fai trovare un uccellaccio del cavolo. Ti fai trovare un uccellaccio del cavolo. Un uccellaccio del cavolo. Un uccellaccio del cavolo. Un uccellaccio del cavolo. Eccolo qua, ragazze. finalmente l'azza di un mare caschifoso, ma va a fare un culo, se è notte, manco male, mi ha evitato di buttare via un mannago porzione, e io, madonna santa, ma posso salire, porca puttana, va bene, mamma, la polda, mi pareva, sono stordito, ma porca miseria, c'è il cauccio, anche voi ci mettete, grazie, c'è il cauccio, 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 non siapai, Se no, per fare l'aiomi, io, per basto. Sì, dai, c'è l'ultimo, io, io, sì, l'algo, io, 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 se ti fa prendere stronzo. Ora basta acqua. Ora c'è il stronzo. Dove vai? Torni indietro. Meglio così. Sono già qua. Ora, qua su se. C'è l'ultimo. Mamma mia. C'è l'ultimo. C'è l'ultimo stronzo. Tipicità a livelli catastrofici. Salveggia. Ragazzi, è super sperato. C'è l'ultimo stronzo. Non è giusto. E' un po' più bello. una raffancula noi merda è noto Torbacato. aiuto in casa in casa aiuto in casa e' del palero in casa in casa in casa in casa in casa in casa accorgimi ho cambiato zona dove spezzare per il corno maledetta in casa 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 non c'è mai scusate cioè su se l'ha fatto fuori toccato mi sembrava strano cioè ragazzi l'ha fatto finta deve morire questa è mi propria questa è questa qua dai maledetto e io come tommo su qua tanto ragazzi l'ha fatto fuori vado molto con calma però quel bastardo di gatto me l'ha fottuto ma com'è dove cavolo sta ok pronti mezzi via ancora qua nel corno ce l'hai ma cazzo ma cazzo fai da questo corno e va fanculo ah ragazzi poi non l'hai diciamato ben cassano bestia sono qua non l'hai diciamato non l'hai diciamato la scarsa e vaffanculo anche se giaggi il merda non vai a cagare te la tua cosa di merda ne voglio ragazzi che ritorno eccola che pareva che ragazzi Sto per muovirlo Si Non vado a cagare E non vado Ho donato il collo Hai voglia di schiazzarlo Con il collo Con la pietra che è in testa Nicola sta più da gommoso Ottimo ragazzi Ottimo Cosa Lo fittoo Vigilare Cosa 60 punti a faccio Fantastico, ma manco questo in alternativa al secondo obiettivo che non ce l'ha fatta Bene ragazzi, questo è un flash fisso qui, ci vediamo al prossimo, ciao a tutti